Dato che oggi toccherebbe a Blasters, direi di provare magari a fare la missione di Amaterasu Non sono sicuro di riuscire a farla perché di livello non sono salito più Beh, non è che si possa salire ogni volta Livello consigliato 40 Ci provo Ci provo e basta Sono al 30, eh Grazie Potrei evitare di combattere di yukai che trovo in giro e andare direttamente da Amaterasu Ah, ma a meno che io non devo per forza attaccare tutti? No, non mi pare Ah, ok, ora possiamo andare Bene, grazie Tonnacueo Grande Oh, guarda Aiuto, sono forti, sono forti, sono forti Però ci tanno a prende, eh No, vabbè dai, no ragazzi Però Shoot and Doji non può prenderci Sempre gli schiaffi da tutti Eh, vabbè dai Sempre gli schiaffi ci prende Shoot and Doji No, vabbè, devo venirci con un livello molto più alto Facciamo nonno scuro, dai Qualcosina dobbiamo fare comunque In Blasters Non è che non voglio fare le missioni Anzi, vorrei farle, però Preferisco fare anche Blasters Se possiamo andare avanti in Blasters è meglio Oh, eccoci qui Questa ce la possiamo fare Consigliato livello 30 Ne siamo a livello 30 Meglio di quello che vuoi Oh, guarda Rapi nonna Un'altra ce n'è Non bastava quella che c'era già prima Ce l'hanno messa un'altra nel frattempo Ma che poi c'è anche il bambino sotto Figo Infatti rapisce Ah, ma era solo uno io che è più grande Ok Ah, ci sta Aspetta che ci arrivo, eh Dai, quasi andata Su La salute Ah, eccola lì Eh, purtroppo ho messo la di usare più vicina Aspetta, eh Eccola Va bene ora Sì, non ci fa in niente Abilità bloccata E chissene Prendiamo a schiaffi Gilgador però ce l'hai Usala Anche fa male Non fa niente Ha finita? Eh, go, go, go Ah, non è finita Ah Ah Yamamba Ora c'è proprio il boss Ah Eccolo Carino Bello ora Ah, ok Ora semplicemente l'abilità Mi fa ridere Gilgador Che sembra che dica vacca Quando attacca Bellissimo Appropriato direi Anche Dov'ha Si mettono a correre Sono fantastici Bel danno Dai che noi gli facciamo più male Con l'abilità Su Quando abbiamo l'energia Ma facciamo più male Buono Ok Andato Bene Bene Molto bene Lei non fa molto male Eh A parte che non sta neanche attaccando troppe volte Allora Yami Yugi c'è quasi Con l'energia Quindi direi di stare Attenti Che fa quello di Yami Yugi È a ricerca Quindi è perfetto Direi Wow Wow Di poco ma l'ho presa Andata dai Bella Wow Quindi lei era un grande mostro anche Fa le veci del grande mostro allora Buono Ok Ci siamo ragazzi Bella partita eh Bravi Mi siete piaciuti Mira a divora spiriti Livello consigliato 35 Possiamo farcela dai Oh c'è il carro Subito Subito Wow che danno che fa Bello Bello Ma con un colpo solo ha fatti fuori Wow Ma troppo Ma sconfiggiti io che hai nemici Ma non Ma non me lo conto se faccio così allora Devo fare per forza con i miei A mano devo fa Ma con il carro era bellissimo Dai Ma con il carro se... Nooo Non mi esprimo eh Perché se mi esprimo Potrei offendere qualcuno Soprattutto le bambine degli sviluppatori Sì dove sei andata ora dai Dici dove sei Ma questa però la prendo Ovvio Eccola qua Divora spiriti O anime Spiriti Mi piace di più spiriti Perdo un po' di salute Ah mi confonde pure Sì va bene Quattro di un doji Quando vuoi Yeah Sono male Grande Bene Ottimo Ah un po' meno ottimo Ma ok dai Non mi è piaciuto Bello Nooo Ma cavolo Cupid Il cavolo Per niente L'ha usato Tutto quanto L'ho sprecato L'ho visto tardi L'ho visto Tutto sprecato L'energimax Che idiota Kyuubi Mi sarei allontanato Io però Oddio Non si è ricaricata Neanche di troppo Alla fine Sta andando Sta andando Sta andando Piano ma sta andando Mi piace Eh Moffin che me lo leva È troppo Pronti Bella Bella Quando sarà I amiglio Beh Ah cavolo Che dolore Che mi ha fatto Perfetto Perfetto Renombra Eh Meno male Oh Meno male Vai Preciso Ora Ci ha preso Uno schiaffo Tremendo Ma ci picchia Kyuubi Preciso Bello Proprio Al pelo Eh Bene Mi sa che si può Stordire Quando fa L'energy max Ma Non ne sono Molto sicuro Preferisco Non rischiare E farmi indietro Cos'è Il pixel perfect Mi ha preso Proprio Bello Allora Come boss Non è male Eh Come gliel'ho Schivato Andiamo con Gilgador Va Buono Molto buono Gilgador Bravo E bravo io Più che altro Il Gilgador Voglio dire Eh Ah Mi ha preso male Eh no Non si può Attacchi Cioè Se l'attacchi Quando fa L'energy max Non 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 No Venga va Va Vai bene finiamola con QB ma quelle fide fuori dal campo di battaglia no eh quelle rimangono lì in eterno c'è il poliministro anche che bello livello consigliato 40 e ci verrò col livello 40 che devo fare ma io anche qualche slottata farei e di quelle normali qualche multi per vedere insomma cosa esce e poi non è che sono proprio multi però diciamo che lo sono si farmano punti poi oggi anche per quello le faccio buono buono se mi uscisse proprio lei sarebbe meglio a me non evito di sprecare le anime miele ok ve lo prego questo orso ci sta ah proprio lui e questa qua sopra dai vediamo questa che ci da ah incantella 5 stelle vai magari esce un altro veleno il futuro ancora 3 dai ancora 3 possiamo ah eh te ne bullo prima la speramo lui l'ultima per oggi dai dammi dammi in cantella niente col dire insomnia bah bah magari la prossima volta il risveglio di Akala sarebbe il caso di farlo il sumo kai no perché poi il sumo kai ha delle missioni più difficili man mano che vai avanti quindi mi sembra inutile farlo ora magari quando arrivo al livello massimo si possono pensare di fare quindi la prossima volta il risveglio di Akala sarà divertente